43 Alvano Se c'è una cosa che ha sempre contraddistinto noi tutti è la sobrietà Niente! Aspetta, 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 ridimelo un'altra volta, quanto abbiamo vinto? 100 milioni! 100 milioni! 100 milioni! 100 milioni che direi non c'è un cazzo! Dei euro, non è me dei euro! E questo qua? 200 miliardi di euro! No, 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 no! Sta zitta, non fa la curina! Sta zitta che ci sentono! Urlate zitti così! Urlate zitti? Ma che urlate zitti? Ma lo devono sentire tutti! Aperagottari! Ma lo sapete chi è che ha vinto 100 milioni? Noi no!